cari spettatori del cinevirus intanto grazie per la vostra attenzione oggi vorrei cominciare direttamente con la colonna sonora insomma tono leggermente epico lo avrete capito il gladiatore 2000 regia di Ridley Scott con Russell Crowe e Joachim Fenix siamo nell'antica Roma secondo secolo dopo Cristo imperatore Marco Aurelio e il figlio di lui perverso e terribile Commodo Russell Crowe è massimo decimo meridio glorioso e vittorioso generale che l'imperatore avrebbe designato a suo successore contro la volontà di Commodo che infatti uccide il padre e vorrebbe uccidere anche Russell ma non ci riesce e il film è la grande storia di una vendetta massimo decimo meridio scende nell'inferno si ritrova a fare il gladiatore e naturalmente è un gladiatore a cui nessuno può resistere e il lungo cerchio del film appassionante si ritrova poi ad arrivare nel Colosseo dove massimo decimo meridio deve scontrarsi alla fine con Commodo il quale comunque proditorio e traditore gli dà anche una stilettata ma nonostante questo massimo decimo meridio prevarà ma alla fine morirà anche lui sognando per l'ultima volta la moglie e il figlio che Commodo gli ha ucciso insomma una storia potente epica velata della malinconia del crepuscolo Ridley Scott è bravissimo nell'orchestrare questi toni diversi del film sia quelli che arrivano perfino alle legia ma anche quelli drammatici per non parlare delle battaglie al mio segnale scatenate all'inferno le riprese in stop motion che ricordano quelle del soldato Ryan insomma il gladiatore fa parte ormai della nostra memoria io non lo vorrei assolutamente incontrare ma per questa giornata ci facciamo accompagnare da lui massimo decimo meridio Russell Crowe arrivederci